buongiorno buongiorno benvenuti in una nuova live live va bene oggi saremo tristi c'è ragazzi ma posso premere il silo pisa invece che la b si è bellissima la rifalla vino c'è ma che poi appena lo comprivo di rimborsarlo c'è proprio io credo che tu sei scandaloso come non lo so peggio di oggi e acquistare le cose se tu non le acquisti le cose di mortacci alla a lei piccina non so se un'altra cosa non potremmo capire questa fa e in giro balli 5 palli singolo 6 allora sfida allora sfida oggi vai alla riva facciamo sfide oggi perché non si tenono sfide ma per te distruggi pompe di benzina esiste con le pompe di benzina di sprovi in faccia esatto distruggi oggetti a caverna scelata del niggio avversari con gli esplosivi totale infliggi danni con gli esplosivi basta che utilizzo l'arco esplosivo la cavolata io mi sono ufficialmente sposato con gli archi e non so finita non è finita al comania quattro giorni 5 perché mettono quattro giorni e venti ore che sembrano quattro giorni dice quattro giorni invece sono cinque come gli incarichi per monarca cosa gli devi fare assisti signori di epic direi che sono bravi poi se me non mi mettono cosa per rimborsare eh grazie questa è mia perché se m'ha rubi ma abbio ti sbrocco oltre città vabbè è venuto qua idiota beh se ci muore è morto lui e vabbè perchè devi dire sempre queste belle parole e complimento se lo vi ho amicato ah un complimento sai che non lo sapevo non sto con questa è anche un pompa qua eh no non voglio il tuo sporco pompa non è mio è un altro no scatola cesto è un tipo ucciso sporco trovi degli archi per favore ma chi vuole gli archi io sono uno strumento dell'arco no sono nella batteria no simone e le sue zucchina 151 veramente ok un team tesoro ma muori fatti una bella vita eh ho fatto tutti i danni eh ho fatto trentuno eh oh la corona dobbiamo trovare il suo compagno con la corona eh era terra sarà sicuramente qui speranto ci sono due cildini se vuoi come faccio a distruggere pompe di benzina eh eh si mi esplodono in faccia però ah ah basta che fai l'effetto a catena ok adesso raggi mamma mia perché non li prendi eh ci passi sopra ok ok person person guarda se il compagno questo lo amassiti dovrebbe droppare la corona no no arriva 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 mi sta curando mi sta curando un attimo non lo scudone un altro un altro un altro ma tre persone assanto in cielo ma mi dovete vergognare fate schifo io ma ci devono vergogna ma porca di quella vacca dov'è la tua scheda è è è è è io a bellino ma mi ha fatto un po' ok ok ho tanto un bel po' di cura facciamoli combattere fra di loro magari lui è forte e ammazza per torno giusto si si sicuro non è vergognoso c'è forse impossibile ah un mio amico arco questo qua è non c'è non c'è non c'è munizioni l'hanno ammazzata ok faccio la fai fai la pazzia tanto non arriva è colpa loro comunque si ok te l'ho presa porca di quella vacca devo scappare ok qui c'è una macchina ok non me ne frega niente scappo subito ti rialimo più lontano possibile ciao ragazzi è stato un piacere non conoscervi sono bellissime sono bellissime ragazzi ciao quindi abbiamo un posto lontanissimo vai alla colana al lago languido 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 si certo subito immediatamente guarda ci sto proprio correndo il solito il solito shift il solito shift ma vai a a boschetto bisunto non 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 no se non stai vinto ora mi ti mi arriva una cicchina di rosa che mi ricordo fino a natale persone 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 te ma in quale modo dobbiamo rovinare nel modo peggiore possibile ovviamente dai vieni qua che ti do il pompa blu no no vieni qua che ci speciamo dopo fatti si trova scudini va faccio to fatti lo scudo to prendi adesso trovo no dammi le emulisioni grande amico vai fatele poi ci facciamo le cura bombe quanti c'hai 2 stanno rai anando rai anando non si può sentire e lo so colpa della erucco a buon intendito or tante parole di cose senza senso proprio a gratis voglio provare a puscare allora adesso è usciti lorenzo iuti ma cosa ho fatto ma quanti archi la impulsa ci sta non c'è ne ho trovato un altro ah no questo è puzzola quanti ah è puzzola sembra uguale è arcomania è arcomania esiste la parola arcomania si vuole a slip sicuro cosa esiste la parola arcomania oppure se la sono inventata l'arcomania si l'arcomania no l'arcomania no non è inventata però che è autoesplicativo quello il nome ahhh serve più a te vieni qua vieni qua no 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 fatelo tu serve più a te iota è comodissimo l'arco quello a impulso perché è come se avessi l'impulso è arco impulso se non è fatta impulso oh è un'affermazione mamma mia non ci sta un mitra in questo posto incredibile ma in che senso un mitra una mitraglietta all'ingresso l'avevo vista è per lui bianca però guarda stava qui davanti mi sembra da qualche parte l'avevo vista ricordo eccola ricordavo pizza o scildini? eh quanti scildini hai? tre pizza allora perché ti cura pure la vita no andiamo da qualche parte pizza è effettente lo sai ma che fai? non so che ti volessi ammazzare venga da me signor le stasso dove andiamo? vogliamo prenderci quanti? no e dove andiamo allora? io da spedermen bravo non prendo mai quanti ma quanto sei bravo allora vogliamo lutare un pochino qua ma si doiz il 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 amiglio tutto tutto mi so entesi ma sono portato di pizze insieme no c'è sì penso ma tis questo è arco un adurto hai visto tu un coso cosa il signor gm no lols no no va bene io ti rovino non mi spoilerai anche in game sai ti ricatto se tu mi spoilerai anche in game se ti spoilerai cosa eh vabbè lol me ne interessa poco meno cioè mi ne fuori di gente il giù 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 ti sta chiamando ma chi ah non ti lascia di cosa mi hai fatto girare la il lo sguardo sul telefono giù 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 simone ti sto per spoilerare eh non so mi spoilerò la vita morirai no diciamo oggi no 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 non siamo dei dirigibili ancora il giù ancora ancora non lo siamo ancora non lo siamo siamo grande grande macchina uomo ma quanto è brava vedi acqua eh sì no veniamo così i roft a questo punto abbiamo trovato una mappa di drake 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 acqua fiammeggiante ma posto di quello ok sta pure verso la safe l'ho fatto il suo risultato r no è lasciato la r no che è lasciato la mitraietta in realtà non l'ho mai preso non trovo una mitraietta ma non l'ho mai no gente qui davanti porca di quella vacca molto abbi loro è sta qui davanti siamo e allora vanno s dove stanno sono lì dietro ok io si avvicinare allora non ci vedono tante dai eccola sta qui davanti non ci vuole tattico vai 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 e ci ha dato eh questo è subito 7 te ho fatti una splash sto prendendo l'uso un po' che mi fa schifo non piace e meno a me lo lasciamola però io direi di chiudere almeno povero indifeso ah almeno così saranno andati con il coso ma che stai facendo? ho chiuso così almeno non lo vedono vai esci? ok mi fullo di splash sì almeno così almeno ci sono meno possibilità che lo vedono splash o made in ebbia? splash potrei farmi denunciare dal WWF stai facendo si è spiegato il made in ebbia guarda là no Lorenzo no altre WWF si denunciano tutti mi denuncia l'Europa no l'Europa già è impegnata in questo periodo l'Europa sta messa malissimo è la borsa la borsa la borsa la borsa internazionale sta molto scendendo la borsa internazionale non c'è più per la la borsa internazionale oh porca vacca 24 24 è morto l'ho sterminato oh fuoco 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 e io l'ho tirato vai 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 tu stilino ti ho salvato mi sa che sta un pochino ti ho salvato eccolo la vabbè persone stimo scappa scappa con questa vai allo posto da dove sono andati loro dove sta allora non andare qui in città vai qui fuori so io sono in ma faccio una pizza qua direi che ok poi vieni qui che ci sono le clown back mangia una fetta qua non mi sono vedrà mai la mia pizza segreta è la mia vai vai vieni qui senza che spreco le splash qui da me ci sono le clown back ok ah belle crumbock eh cosa 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 c'è la prima munizione arco ok lì gente è stata voia lì gente non faccio niente randest che c'è no ho 20 c'è la 10 io direi ho visto uno sparo o un qualcos'altro una prima cadita 10 di scuro no osimo aspetta fermo no 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 morto ma prendi eh adesso ce l'abbiamo oro da dietro no da dove da davanti ho capito da dove ah ho capito da là da là ok ho dato fuoco così si imparano sto godendo oh 72 fa quello con l'arco che sta lì gli do a fastidio gli do a tanto fuoco bravo bravo fai il piromini hanno ammazzato qualcuno stanno lì sotto stanno lì sotto stanno lì sotto stanno lì 19 di danno oh stanno pure lì dietro Simo va dietro alla montagna oh eccoli li vedo oh 72 no non li fa scappare altri 15 mamma mia sono un piromane proprio che mi deve chiamare il bwf usa altri 72 ma quanti 72 sto tirando eh mi lasceranno scusa 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 eh mannaccia alle zucchine Simo io scappo me lo devo fugare urti idiota ok ti proteggo dai vieni qua hai perso 2 di 2 di scudo io quattro eh quattro quale tantissimo senza questi quattro di scudo guarda moriremo tutti oh si ma sto dando fuoco un pochino eh da tutte le parti una terra la aspettiamoli safe ok l'hanno finito mi sa questo mi sa questo Lore prendi questo eh che lascia le curabombe le abbandono le spreco tutte ma cosa è che ho dato quello fuoco quel fuoco devi curare quel fuoco vabbè ho abbandonato ho sprecato tutte le curabombe Simo mi servono munizioni arco ce le hai? no quante che ne consumere così tante è perchè ho dato fuoco ho dato fuoco ho atterrato uno e l'ho ammazzato però lì dò fuoco si si perchè dentro ai muri corazzati praticamente crei una gabbia si funziona se solo loro avrebbero dei muri corazzati se solo loro avessero dei muri corazzati si ce li hanno li stanno utilizzando stanno lì dietro Simo eh basta non spreco più niente perchè poi non spreco troppo allora siamo a board safe quindi queste cose potrebbero essere vantaggiose quindi abbiamo una vicione a 180 gradi entra qua dentro buono qua è buono allora lì non ci spreco nemmeno cosa le persone sono qua le altre persone ho dato fuoco lì dentro ahi ci spugli non ci sta in persone non ci sta in persone là ah siamo due v2 nel frattempo no che ne sa che sono due v1 v1 vabbè intanto io sparò lì col fuoco ok 13 eh che cavolo prendete fuoco eh non ho finito tutto ma sono due ok 31 31 cioè 21 31 hai esterminato dai esterminato 2 mk io ho paura che ci sia un altro perché ce n'è un altro r lo sai to te ne do c'è uno 120 to ecco lì eh non ci sfregherai più tante molette siamo fuori siamo ma sai che sta qui sotto sta qui sotto l'altro porca di quella vacca bene e questo è dall'arco no stella stella ecco lo sa qui sopra simò stai arrivando attento simò vieni qui da me non sto qua guardate meglio ok sono qui ok sono qui attento arriva ma se arriva io lo lasse lo hai capito oh hanno tutte e due paga vita li abbiamo ammazzati praticamente eh non sono i guanti quanto sono stanno lì davanti diamogli fastidio simò anche perché siamo proprio bordo safe idiotti ok 24 quello lì sotto doppio 24 rotto shield se ci avessi solo le munizioni simò qui sotto e il fatto è che c'ho l'ultimo caricatore non mi capo 7 o diamo tutto per tutto per tutto se no no il fatto è che siamo messi malissimo a munizioni proprio cioè siamo proprio nel caso ah ma è vero che qua è malissimo sono messo lo riprendo questo no non possiamo prenderlo ehm osimo o la prendiamo o moriamo aspetta distruggi l'albero ok dai prendila vai 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 salini sopra attento che c'è oh l'ho visto chi no si muove qua vai si stanno fetando grazie ma che scudo persone gli assi grandi mamma mia sta bomba scudo credo sia la salvata proprio unico uva di mi sta chiamando non posso fare 35 cose ehm ehm simo non capisco più niente ehm questo qua si è mia forte simo prendo l'high ground oh che cavolo ha fatto sto qua oh simo questo qua ci raggiunge subito ho finito i materiali sono ufficialmente morto c'è c'è lei materiali vieni qua vai grande me le puoi dare un pochino facca di quella vacca sto provandolo grande ok basta ci posso costruire stanno lì dietro simo mamma mia eh vabbè siamo qui 24 lo ho terminato io quello lo ho terminato tranquillo e io sono morto sono come il 48 quello l'ho stermiato mannaggia non c'è cosa so qui dietro eh sono morto vorrei di niente ciò più subito non c'abbia più cure siamo ufficialmente morti ah vedo tieni questo tanto ossiva ma dov'è quell'altro campionato proprio si era l'ultimo se non ci stiamo andando per far sentire un forse ci sei a te appunto che la safe da qui sopra siamo chiudi qui dietro madonna nemmeno in arena di morta di loro vai tento che sta qui sono morto siamo morti dalla safe eccola la non siamo morti non siamo morti io non sono morto un bel primo eh stanno fedendo la sopra attento non gli da fastidio ce n'hai uno qua non ho colpi non ho colpi santi cielo i colpi ci hanno ci hanno fregato sono camperoni sono non ci sono giocati bene hanno fatto l'ultanto che ho hanno draghiardato e eh sono diventati in modo che sia assaustivo santi cielo cosa è colpa di Patrizio è colpa di però però ci siamo giocati bella 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 bene che poi alla fine abbiamo fatto un giro no non è padri sono appunto che la safe è in tutta no c'è c'è un aggiornamento c'è un aggiornamento eh sì c'è un aggiornamento ma come no non c'è padri quanto ci mette un'ora di sotto un'ora di sotto un'ora di sotto vabbè vabbè ciao allora ciao e se no vabbè chiudi la live ora giochiamo come ti va come ti va come ti va muovedo dai ti lo faccio sapere vabbè ciao ciao ok vai vai oh ieri su gta ha speso 2 milioni 4 e 50 lo sai per cosa per una base operativa con una stanza da letto una e tu ti serve che tu non ci dormi eh tu non dormi su gta ah sì che dormi si può dormire ma non ha senso sì infatti nemmeno l'ho comprata cioè c'era la disponibilità perchè ogni mese siccome ho playstation plus no mi danno un milione al mese come se fosse il mio stipendio ok eh tu quanto hai di stipendio? 10 euro ah io ce n'ho un milione sul gta 10 euro è una vita reale io ci sono scusa tu non ci sei una vita reale idiota ah bene cercherò di attivare questo questo bonus però dobbiamo stare attento al poppy mouse il il folla mouse no il poppy il poppy mouse folla poppy tante persone ci sono sono tante poppy poppy brutto potti no no perfetto no andiamo qui vieni qua perchè ci prendiamo i guanti lutiamo un bel po' non c'è niente da lutare dammi Rita dammi Rita mi dai Rita non c'è niente da perché perché è il foffi bonus ed il foffi malus cosimo non tarsi su no agora cosa dice giocato hmm si se non ci debba non ci debba verso il—— no lui è il vice del vice del vice ma lui è il mio supremo padrone ah tu alla fine siamo tutti supremi padroni tranne che te eh io sono il padrone che fa schifo oh siamo qui da queste zone ci dovrebbe essere un altro paio di cose no in questo periodo non diciamo queste cose dai no cosa se vieni da me ci facciamo una bella bombetta scudina dai ma sto tornando solo i cecchini cecchini di odio quando c'ho paura di cadere ogni 2 per 3 eh te lo dico ma dove guarda tu sto ah ho capito dove sulle palle scuola me non serve vieni se vieni ce la faccio la facciamo insieme ma ce la scuola ce la faccio la scuola la facciamo all'anzi sono a cento di vita schifo quanto è tuaglioso fare la bomba scuda posso comprare delle hack sì o no all'orenzo sì sei sicuro sei sicuro della tua scelta no quindi dici l'altra sì e no ok allora non ti do il ma c'è ma mi fa il regalo di natale di natale così indietro eh non me l'ha fatto non è vero quanto che schifo ma schifo tu che tu non me la fai e tu avevo fatto il regalo una volta ed era quello delle evidenziature fin dei ct ma quella là era una challenge ma facciamo lunga qua dobbiamo fare cocco con contro 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 che c'è poti no aspetta andate in vacanza l'estate sta arrivando l'estate se ne sta andando prima ma sta arrivando ma state in tracestra leggendaria di imbecille guarda che imbecille ho patentato di testa e di cuore come di cuore eh tu il cuore un cuore non c'è tu il cuore non c'è l'arte ah oh l'idea di munizioni arco scemo no che lo amare sta valendo che vuoi ti date il coso ti compri tutte le altre cose se le trovassi se le trovassi se le trovassi se le trovassi la tua vita eh se trovassi tu la mia vita era eh era eh 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 è bella cacca sopra cosa eh 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 tanto sei simpatico mamma io ti piace la cacca cosa si buonissima l'ho mangiata ieri si 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 no no allora andiamo a campo coccole no no non si va a campo coccole si ammazza prima la gente le coccole non si fanno tempi di guerra come quelle persone che vogliono uccidere te le sei picchiati anche tu i guanti eh yes hai due sono un buono spider man che si si piace i guanti adesso però sta andando contro safe non vorrei dire però sono andata a campo coccole oh perché fai le coccole non fai le coccole non fai le coccole non fai le coccole non so no hanno già arruttato tutto normale idiota che trovassi che volevi che trovasti tutto niente che trovasti che moriresti si un altro orco non fai le coccole nooo oh c'è un altro orco buzzole che si fanno così eeeh ci campelliamo così un paio atti ci ah c'è le leggendari grande amico non ho trovata epica guarda solo per te quella epica e non leggenda eh oh oh my gosh oh 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 you are a best friend oh simone uno due due lascia i scudoni allora c'è una tenda io li porti tu nella tenda è la vita della dei cosi li porti te nella tenda tre scudoni ma va a fancina anche dai non mi insultare porti i cd eh però i scudoni sono tre capito io sono no io sono scildinaro sono scildinaro 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 di campagna quello che acquisti al mercantile cosa mi porti tatua ma sempre a ringraziare così eh grazie fu qui davanti gente amichevole ma quanti arti stiamo trovando ancora arco è la settimana arcomania arcomania marcomania marcomania io dico ma ci sono un po' dove andiamo ho sentito spari a sud hai appunto a sud no è fuori se andiamo andiamo a morire a tilt ma guarda andiamo qua in questo stretto in uno stesso di gibilterra che si rossi di gibilterra io mi chiede mi hanno mi hanno mi hanno sì lì però mi hanno sparato da dietro capisci ciò vorrei fare una battaglia che ha fatto questa maledetta cosa che è stato l'idiozia di questo gruppo questo sciocco è morto oh scemo oh dunque quello che mi ha sparato se facciamo una vita ma come faccio che sta e sta qua sotto sto qua ma è stato sto ciuchino ciuchino oh ma è terminata ciao ciao addio oddio sarà bellissimo un altro arco quanti arco esistono nel mondo tanti troppi troppi la stella di negro on in no ora mi servirebbero i scudoni colasciato prima anch'io ah ma io c'è una tenda vieni bro vieni vieni brother vieni bro aspetta mi faccio la tenda e poi mi faccio le clombe ma che cavolo se ti arrivano le clombe eh eh non la devo acquistare perché non puoi entrare entra nel mio scusa non me la fa entrare perché non me la fa tirare ma non è vero cosa è per dire ma da quando non te lo fa cosa si lo faceva sempre mannaggia ah chi te eh eh cosa no ma non ho ben capito vieni qui da me quello che è stato detto da vabbè no ma non credi che non parlo vabbè vabbè andiamo i fuori safe babbo fai quello che vuoi la tua vita secondo me genitori dovrebbero dire questo è la tua vita fai quello che vuoi giusto? no quello è dopo 18 anni sì prima no perché no mannaggia mannaggia chi mh chitani e che tu mi sì sì certo 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 ora allora sono la seifo la safe la safe la safe tanto c'è una giampa la safe la safe la safe ma che già prevede sei quanti un attimo un attimo giuro che se mi tocca con lo squalo i i no c'è 99 di scudo persone un attimo è lontanissime ho da anni anni luce penso vicino a te ma perché vieno ecco prenderò danno dalla seif mannaggia perché non Lorenzo e non mi fanno i guanti ecco arrivo sono guidati andiamo in seifo in safe segui me segui babbo qui sono io no babbo non sei tu ziota teo ti faccio giocare con la play e chi se ne frega ancora simone e simone dobbiamo in seifo allora ora posso e siamo safe ok sono qui in alto se vieni dai che ti fornisco fuoco di coperto dove cavolo sei? sono qui sulla montagna persone sono qui sotto di me le persone semmai sono da me oddio si muo ma tu cavolo sei? ah almeno non fluo in compasso ti fornisco fuoco sai da berli sei a berli a me mi stanno seguendo simon scappa appena vuoi no funzionano mei così non funzionano non ti fungono e a berli stanno facendo la torre di pisa e poi stanno facendo la mannaggia di quella la mannaggia di la mannaggia di la mannaggia di dai lo faccio anch'io così a noi no ok io lo fuoco sono piromane niente piromane passate la tua testa che semmo non ci faccio ah stanno lì dietro questi sporconi guarda dai ho fatto la torre di pisa io gli faccio uno scritto che hanno fatto la torre di pisa c come vi ha insegnato la vostra madre di lingua terra visto cavolo veni quasi mo come trovare un punto di c'è una scena scena di buono buono con un po' ok non sai di sugo e cosa non sai se non è vero soltanto i bolognesi si perché sui bolognesi sono bravi se no io mangi la cooperano quello quello napoletano ecco per questo devo fare questa cosa fa la fancina il idiota ma che succede se do fuoco se non so ti stai chi ti stai con la testa ah devo far male cose che hanno scolto che è scosata siamo rimasti senza niente eh però la legna in questo caso è abbastanza inutile visto che ci sono gli archivi fiammeggianti ti stai zitto lo stesso se uno non ha gli archivi fiammeggianti che cosa fa? eh che bello che facciamo? ho ambezzato qualcuno eh che cosa? ah 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 mannaggia mannaggia stanno rianimando stanno rianimando eh appunto ah ma mi ha pensato le glisse guanti ma stanno già sparando bene hanno rianimato no ero io che sparavo no male malus simon scappa e mi hanno distrutto 24 34 l'ho distrutto io quello quello l'ho disintegato a terra ci diamo adesso non ci diamo diamo fuoco attento simon non c'è andare attento simon gli do fuoco scappa ma ma mannaggia a te eh porca di quella vacca ucciso morto 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 arriva gente però adesso mi serve eh lo so come gente scappa scappa come gente da dove vieni qui dietro simon veniamo queste ma non vengono ma dove sei vieni eh vieni vieni porca di quella vacca faccina a loro rincrittini scappatevi seguono fino alla morte , ci abbiamo capito e ci servivano quelle che lo bacca qui davanti c'è gente no andiamo quando avanti eh scendico 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 che mi servono non le tiro pure una tenda metti di passare un attimo devo prendere i sicilini attento gente attento simon simon ti devi spostare ti devi spostare simon scappa da qui fuori non posso non posso non posso lo vuoi capì si vabbè non funziona però sto gioco cioè mi aggrappa eh saliamo qui sopra però è fuori sei infatti è che io potrei potrei imparare l'ultimo sto ritornando dove siamo andati è un casino io sono ufficialmente morto io sono tornato qua eh ah l'ambergen della la eh buono 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 ti sono un pelo di safe ti sono un pelo di safe ti sono un pelo che sei in safe si ho trovato scudoni simon vieni qua da me non posso allora ma ce ne stanno un moto sei super fuori safe lo so hai guanti però eh mi devo fulla tu fullati ma io no io rimango qua ma se provo a lanciarle un pochino in safe no lo scudo è impossibile da portare pur volendo ok io arrivo no no aspetta che siamo 2v2 2v2 buongiorno buongiorno ma scusa non ti copri dietro effettivamente poi stiamo costruendo pure non ce l'hai tipo altri materiali? si allora costruisci tipo il mattone no io lo dico perchè se no poi ci danno poco e così proprio se ci danno poco qua siamo fritti siamo pure fuori safe oltretutto uh simon ho vistato gente lì mi sono panicato porca vacca ho tirato uno sparo per sbaglio ma stai sparando tu? no da là 21 a 1 21 a 1 ucciso ucciso uno là ok tiro pussa ma la puzza erai tu tiro la puzza questa struttura si muova distrutta la? ma è morto quello là perché stai là è morto parola un attimo a fermo di g. a questo è il cercare di francese niente 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 nel sito ma come vuoi voler sì non ancora non scende poi devo scendere forse tranquillamente scendere forza non muoio questo arco sul solante se attaccano siamo 2 v2 oppure 2 v1 v1 ma sono questi ma sono qua l'ore, sono qua porca ma sono stupido sono morto perchè tu ti fai se non fa così ok ok non so vieni qui da me u 72 1 72 hai detto 72 si a te scappa si costruisci mattone no vabbè è impossibile dai mi hanno ammazzato non è possibile guarda ok no non monti ma sei morto non è possibile no sono vergognosi ci sono di per cui insomma mi avevo lasciato uno con 50 discute e 23 sono veramente vergognose guarda eh sono vergognose sono vergognose ma guarda devono sarsi veramente vergognose cioè spammati con l'arco un coltato ma il copio di letteratura la cosa dobbiamo fare di letteratura dopo te lo dico ma ti dici adesso adesso veloce allora praticamente c'è quella pagina devi scegliere tra quelle quale è vero e quale è non mi ricordo c'è scritto tutto su quella pagina aspetta no 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 sì ecco allora sì ragazzi noi ci vediamo domani con la prossima live e e goodbye